Lei sembra alquanto... Eccitato? Frenetico. Lo suono. Direi quasi... Estatico. Psicotico. Genio dell'incredibile. Esatto. Oh, presso poco. Maestro dell'imprevedibile. Questo non l'ha visto nelle carte. Investigatore dell'impossibile. Tutto fracasso e spasso. È l'unico e insuperabile Sherlock. Lo ammetto, non è il mio travestimento migliore. Robert Downey Jr., Jude Law, Sherlock Holmes, Gioco di ombre. Prima TV Canale 5. Domani 21 e 10. Lunga un secolo e quattro generazioni. Una famiglia. Prima assoluta. Prossimamente su Canale 5.